Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi siamo su Minecraft Pocket Edition per continuare la nostra bella avventura Allora, dall'ultima volta, come potete vedere, ho ingrandito un altro pochino la casa perché quella era ancora un po' troppo stretta e adesso diciamo che la casa comincia ad essere casa Qua abbiamo una bellissima stanzetta, apriamo la porticina e ho la mia bellissima stanza personale, un po' piccolina ma bellissima Certo ci vuole un po' più di arredamento, qualche decorazione ma più in là la farò, non so se la farò insieme a voi o la farò da solo ma tanto la farò Allora, oggi che cosa facciamo? Siccome per esplorare le miniere ci vuole un bel po' di cibo, non possiamo fare altro che fare una bellissima piantagione di grano Perché senza il grano, cioè con il grano facciamo un bel po' di panini che sono belli sostanziosi e ci curano nel caso in cui siamo in pericolo Allora, io ho recuperato già un bel po' di semini che si recuperano spaccando l'erba alta Questa qua, l'erba alta, ma alcuni si trovano anche in questa bassa E sì, il pollo me lo sto attirando perché con il semino in mano mi attiro i polli Ciccio, ma che vuoi ciccio? Io non ti vorrei uccidere ma un po' di carne di pollo però mi servirà Vieni qua, vieni qua! Dove scappò? Vieni qua! Che devo andare a lavorare, dai! Che sfama! Cioè, posso sfamare il pollo? Vabbè, poi vedremo Allora, la mia idea oggi è quella di fare l'orto, quindi la piantaggine di grano qua, in questa facciata di casa Allora, quindi cominciamo subito a togliere un po' di terra di qua che non ci serve Perché questo spazio è un po' piccolino, perché dobbiamo piantare ben 61 61 semini di grano Qua ci sono 61 Ma ci dovrebbero essere Allora, cominciamo un pochettino a delineare la nostra piantaggione E io qua volevo allargare però Allarghiamo un altro po' Vabbè, la pala sta finendo pure Qua voglio allargare perché ci voglio mettere le staccionate Tutto attorno al mio orticello Ci facciamo la staccionata, così non ci vanno animali Non ci vanno pecore, mucche Che mi rovinano tutte le cose E le piantaggioni La pala si sta rompendo Bastarda di pala Ma poi giusto giusto Chi è? Ah, si è rotto Andiamo a fare la pala Giusto giusto Il mio villaggio è emerso in un posto sperduto Vuol dire con 3.000 montagne Tra meno di pietra, forse Che se no ogni 5 minuti rompiamo le palle Non le palle, le palle Che capite? Non lo so Allora, scaviamo, scaviamo, scaviamo Qua lo voglio tutto libero Tutto Tutto libero lo voglio Non devo vedere terra nel raggio di mille chilometri Perfetto Eh, e diciamo No, un pochettino più guardabile ce l'abbiamo Se magari togliamo pure questa, così Abbiamo accesso al retro della casa senza troppi problemi Rispetto a quando abbiamo iniziato con il buco di casa Con una piccolissima finestrella Diciamo che di progressi ne abbiamo fatti La nostra torre alta è sempre là Che si fa vedere anche da lontano Tranne nel caso in cui siamo immersi nei boschi, negli alberi Per adesso fermiamoci qua Perché con... Cioè, si è rotta pure la palla di pietra Quante palle ci vogliono? Per fare un po' di spazio Allora, diciamo che come spazio ci siamo Un bel po' spaziosa Io allargherei ancora un po' qua Ma poi lo farò io Per adesso facciamoci la bellissima piantagione Allora, che cosa ci serve? Ci serve la zappa Ce l'ho? Ce l'ho, perfetto Zappa Ok, dobbiamo farci un quadrato Abbiamo quanti semi abbiamo? 64 di semi Quindi un quadrato di 8 per 8 Allora, cominciamo da qua Cominciamo da qua Perché qua ci mettiamo la staccionata Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Finiamo qua Bellissimo Qua ci mettiamo la staccionata Cioè, sembra fatta apposta praticamente Sembra fatta apposta Cioè, qua è la staccionata Solo che qua si sta rompendo di nuovo Perché mi manca l'acqua Cioè, l'ho il secchietto di acqua, no Manca il secchiello forse c'ho Aspetta, andiamo a controllare là Andiamo a controllare nel mio bauletto personale Se c'è qualche Un secchiello Non c'è niente qua Non c'è un secchiello Bastardo Andiamo a dobbiamo andare a fare il secchiello Facciamo il secchiello Allora, il secchiello si faceva con il metallo Dove l'ho lasciato il metallo io Ce l'avevo, no? Eh, ci mancava pure che non avevo più il metallo Il ferro, voglio dire Ok, facciamo il secchiello qua, dove? Secchiello, perfetto Ok Secchiello fatto Andiamo a... La mucca c'è Minchia notte, già notte, porca la miseria Già notte Andiamo nella mia bellissima stanzetta Guardate, che fenomenale Tutta illuminata, bellissima Prima o poi mi farò le luci che si accendono E spengono con la pietra rossa Quindi con il pulsante Io premo il pulsante Se accendono le luci Lo premo di nuovo E si spengono Non so se qua su pocketedice Si può fare Ma sul computer l'ho fatto Quindi non so se cosa si può fare Penso di sì Vedremo Ok È giorno C'è qualche creeper di merda fuori Che mi rompe le scatole, no? Cosprisco tutto l'orto E poi c'è il creeper Che mi fa esplodere il mondo E esci Ok, andiamo a prendere l'acqua Fortunatamente ce l'abbiamo a due passi Bellissimo Ok Abbiamo preso l'acqua Qua mi è ritornata terra Perché dobbiamo mettere l'acqua Allora, un quadrato di acqua Bagna praticamente Quattro zolle di terra In tutte le direzioni Quale cosa cadono solo? Ok No, non rompere niente Allora Uno, due, tre Qua Maiale Ti levi Maiale Ti ha pure con il maiale Dove combattere? Ma leva dalle scatole Ti levi Allora Uh, dov'è? Uno No, non mettere Non mettere questo Però Non lo mettere Perché mi devi fare cose che non Cioè non c'è manco l'ascia Ma porca la Ah, perché mi si è rotta l'ultima volta Che ho recuperato i materiali Ma baffanculo Perché devo fare cose che Rompi qua Perché mi devi fare fare lavori inutili? Ok Allora Uno, due, tre, quattro Viene qua praticamente Però lo facciamo qua Uno, due, tre, quattro E uno, due, tre Quattro Perfetto Dovremmo essere Uno, due, tre, quattro Dovremmo esserci E uno, due, tre E quattro Quindi il buco Due, tre, quattro Qua E il buco lo dobbiamo fare qua Per l'acqua Lì lo ricopriamo Perfetto Dovremmo esserci Allora qua ci mettiamo l'acqua E poi andiamo a fare Sì, non ti buttare nell'acqua Andiamo a scavare Andiamo a zappare la nostra terra Oh, perfetto Dovrebbe funzionare Zappiamo, zappiamo, zappiamo La nostra terra parapa popolo vediamo di qua 2 3 4 e 1 2 3 troppo giusto giusto quando dovrà allargare un pochino di più ecco 3 1 2 3 4 troppo perfetto una zolletta di acqua ci basta perfettamente solo che qua ci vuole ci vorrei mettere una foglia di quelle che si trovano nei laghi, nei laghetti così da evitare che quando raccolgo le cose praticamente cado dentro la buca di acqua dai veloce, veloce a zappare veloce che dobbiamo coltivare oh perfetto il nostro campo è prontissimo perfetto una zolla di acqua ci basta e ci avanza ok intanto seminiamo perché siamo qua per questo per seminare mica noia per appiantare tutte ste cose già pensa che ogni volta che raccolgo devo ripiantare ma non esiste tipo una cosa automatizzata per fare tutto questo lavoro qua sapete qualche trucco per automatizzare il lavoro? sapete qualche trucchettino? ditemelo nei commenti così acceleriamo un po' il nostro processo di coltivazione pianta qua che già notte mica sempre notte già subito notte ok dai dai pianta che dobbiamo andare a dormire ok mi ha avanzato un semino perché ho fatto una striscia in più ma pazienza forza dormi spicciati che domani si lavora dobbiamo fare le torce dobbiamo mettere le torce per quel grano cioè qualsiasi tipo di coltivazione qualsiasi tipo di coltivazione richiede luce senza luce non cresce una pippola di pippola ah ma prima delle torce dobbiamo fare i cancelletti dove le metto le torce? nel cacchio di sua sorella allora facciamo le torce le torce i cancelletti qua le staccionate no ma da una bastardo quanti ne abbiamo? ah ne abbiamo 10 ma non ci bastano 10 minchia che sono tirchi ma che cazzo ho fatto il cancelletto ho fatto devo farlo a staccionato ho fatto 10 cancelletti ho fatto ecco perché me ne dava una qua non si capisce un cacchio non si capisce ok facciamo un po' di staccionate quant'anni avete? 33? 36? quindi ci dovrebbero bastare ti ho fatto 10 cancelletti che cacchio ci faccio con 10 cancelletti ok una staccionata due staccionate ok ora si allora un ingresso me lo faccio qua vicino all'ingresso metti qua scassa cacchi ok staccionata porca la miseria ma vero è che non posso fare un cacchio di orto ok qua ci mettiamo il cancelletto cancelletto 2 3 qua ci eh io come salgo ok bellissimo il mio orto è spettacolare c'è a momenti è più grande l'orto della casa ok adesso piazziamo piazziamo le torcette 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 torcetta torcetta a volontà che dobbiamo fare crescere tutto ma si possono mettere sopra ah perfetto bellissimo qua sopra bello qua so qua sopra così e ti smuovi però a mettere ste cacchi di torce una la mettiamo qua torcetta qua magari qua e va bene così ragazzi è bellissimo il nostro il nostro orticello è pronto abbiamo piantato solo grano perché non abbiamo carote ma non abbiamo una carota non abbiamo patate abbiamo solo grano ma io volevo andare a cercare tipo quelle foglie larghe la troverò così gliela mettevo di sopra ed evito di cadere nel buco ogni volta che che vada a raccogliere il mio grano foglietti ma ci sono le foglie in minecraft poco te dici non è che sto cercando cose che non esistono mi sta avvenendo proprio il dubbio il che non mi piace tipo tre ore a cercare foglie e poi manca esistono niente ragazzi non esistono le foglie larghe che che volevo mettere su quel posticino di là dove c'era l'acqua non esistono su minecraft pocket edition almeno io non ne ho trovate quindi ogni volta dobbiamo cadere nel buchetto quando raccogliamo comunque ragazzi bellissimo guardate già stanno crescendo fantasia con la farina d'ossa praticamente si può si può far crescere il grano all'istante vediamo se funziona cioè un osso solo che cacchio un osso vediamo se riusciamo a fare la farina con un osso farina d'ossa 3 vediamo se funziona credo di sì ovviamente beh di là si esce dov'è la mia farina qua 1 2 3 via già così è cresciuta no così anche a 2 ce ne voglio per farla crescere bastardi dai che questa si può raccogliere raccogli raccogli raccoglio quando devi raccogliere raccogli oh abbiamo il nostro primo grano ragazzi con cui fare un po' io devo fare un pane però aspettiamo che esce pecora tenesci pecora tenesci e mi rompi tutto qua esce e che città cacchio centri a fare nel mio artice chiudi 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 e questa entra come si chiude il cancello chiudi chiude il cancello vaffanculo chiudi dai grano cresci mi devo fare un panino ok è cresciuto il nostro bellissimo grano raccogliamo il grano e adesso ci possiamo fare il nostro primo panino bellissimo ok chiudi qua che c'è notte chiudi che domani ci sarà ma io devo piantare l'altro però vabbè intanto facciamoci il nostro primo panino vai il nostro primo panino dov'è? dov'è il panino? panino! pagnotta! dov'è? dov'è la mia pagnotta qua? buonissima lo posso mangiare? no c'è il cibo al massimo bellissimo ragazzi abbiamo fatto il nostro primo panino al prossimo video vi avevo detto che dovevamo fare tipo il magazzino con tutte le ceste una per ogni materiale quindi diamanti, ferro, ore eccetera eccetera tra cui volevo fare anche un frigo da mettere qua una cassa da frigo dove mettere tutto il cibo quindi pagnotte, pollicotti, pollicrudi carne cotta per carne crude eccetera eccetera bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo ho fatto anche sulla pagina facebook sulle altre sociali in cui trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo episodio di minecraft pocket edition per oggi è tutto al prossimo video non è che possiamo far ballare le bambole qua siamo qua per combattere ok vai ah praticamente il pop è invocato il boss belli cioè non ti potevi stare a casa che cazzo ci svegli il boss non ti potevi stare a casa